Ciao ragazzi, oggi siamo a Colmar e quella che vedete alle mie spalle è la piccola Venezia. Guardate, la nostra regia sta inquadrando questi meravigliosi canali con le tipiche case di origine medievale, con le intarsi in legno. Guardate che meraviglia, ricorda veramente la piccola Venezia. Ecco, adesso guardate, vi faccio vedere anche il resto. Venite con me. Continuate a seguirci e iscrivetevi al canale, subscribe the channel and follow up. Guardate, ecco, ci sono persone che stanno facendo il giro su queste imbarcazioni che sono un po' simili alle gondole e con questa bellissima visione della piccola Venezia Colmar-Alsazia vi salutiamo e vi aspettiamo presto per un nuovo appuntamento. Ciao!